Valdi Lorenzo. Ruolo? Esterno destro. A che giocatore ti piacerebbe somigliare? Ad Armando Izzo. Perché? Perché ci mette un sacco di determinazione in tutto quello che fa. Qual è il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Luca Castagnoli e Giacomo Dradi. Quali pensi che siano i tuoi pregi e i tuoi difetti in campo? I miei pregi, la velocità e i difetti che non ho molta resistenza. Hai un numero di maglia che preferisci? Sì, l'otto perché ce l'ho sempre avuto anche da piccolo. Il tuo sport preferito dopo il calcio? Fa lavoro. La materia scolastica che ti piace di più? Geografia. Che cosa rappresenta questa esperienza nel Ravenna per te? Una nuova avventura per mettermi in mostra e divertirmi. Perché squadra tifi? Esca.